Red Valley si è a parte, il festival musicale in mare aperto. L'evento gratuito, organizzato dal Red Valley Festival insieme a Red Bull e le Bonski Agency, in collaborazione con la Regione Sardegna, ha come obiettivo la promozione del territorio sardo, valorizzando al contempo i principi fondamentali che caratterizzano la musica, cioè l'amicizia e la condivisione. La manifestazione si svolgerà sabato 18 luglio, in una location insolita. Gli artisti si esibiranno su una barca in mezzo allo specchio di mare di Tortorì ed Arbatax, con uno scenario mozzafiato. Gestar, uno degli artisti sardi più acclamati del panorama musicale attuale, Salmo, oltre al DJ show di Radio 105 e Mamacita, con Max Brigante in console più altri ospiti a sorpresa. L'imbarcazione palcoscenico salperà dalle 17.30 dal porto di Arbatax, doppiando le suggestive rocce rosse per poi fermarsi nella baglia di Porto Frailis, dove si svolgerà il concerto marino. Per assistere alla performance, rispettando le norme anticontagio, è necessario arrivare con la propria imbarcazione o noleggiare un gommone senza l'obbligo di patente al porto di Arbatax ad un prezzo convenzionato. Su ogni natante, tranne che per i congiunti, dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. Per chi possiede un'imbarcazione, sarà sufficiente compilare un modulo online all'indirizzo www.redvalleysiaparty.it. Lo stesso sito sarà utile per la ricerca e prenotazione delle imbarcazioni. Un modo nuovo di vivere ed assistere agli eventi musicali in tempo di Covid e ripartire in totale sicurezza.